Ciao, mi chiamo Lisa e ho una singolare storia sulla fertilità che vorrei condividere con te oggi. Racconta di come sono rimasta incinta nonostante ogni aspettativa dopo aver combattuto contro la cosiddetta infertilità per più di un decennio. Per anni, ogni medico consultato mi aveva detto che ero sterile e non avrei mai avuto figli miei. Invece, sono rimasta incinta due volte, a 43 anni e 45 anni, e oggi sono una madre orgogliosa di due bellissimi bambini sani. Come ho fatto? Beh, la maggior parte di ciò che ha funzionato realmente per me probabilmente non è qualcosa che leggerai nei libri di medicina convenzionale o riviste di fertilità. E scommetto che funzionerà anche per te. Ho intenzione di raccontarti la mia storia perché probabilmente è molto simile alla tua. Non importa quale sia il tuo stato di salute o problema di fertilità, questa storia riguarda tutte le donne che lottano contro l'infertilità. E se guardi per intero questo video, che non rimarrà online a lungo, farò più che raccontarti una storia. Ti darò la soluzione che ho trovato e utilizzato per rimanere incinta due volte, dopo anni di disperati tentativi. In questo video ti mostrerò come fermare la causa alla base dell'infertilità in 30-60 giorni, per permetterti di rimanere incinta in modo naturale in sole 4-8 settimane da ora. Il metodo che ti illustrerò oggi funziona anche se... Hai più di 30 o 40 anni. Molte donne di 45-47 anni e anche una 51enne, tutte etichettate come casi di sterilità senza speranza dai dottori, sono rimaste incinta dando alla luce bambini sani, nonostante tutti i pronostici, seguendo il programma Gravidanza Miracolosa. Hai le tube di falloppio ostruite. Hai alti livelli di FSH, ormone follitropina. Hai cisti ovariche o fibromi uterini. Hai avuto aborti spontanei. Il tuo partner ha problemi di scarsità o motilità degli spermatozoi. Non so per quanto a lungo questo video rimarrà online, per cui fai in modo di guardarlo da inizio a fine fino a quando è disponibile. Lasciamelo ripetere. Se guardi questo video da inizio a fine, se segui le mie indicazioni, ti posso praticamente garantire che rimarrai incinta nei prossimi due mesi. Ora so che starai pensando. Ascolta, ho già provato ogni cura antisterilità in circolazione e non sono ancora rimasta incinta. Allora fermati. Questa non è un'altra pagina di vendita di medicine antisterilità o chissà quale magica crema. Un'altra promozione di pratiche di inseminazione artificiale o fecondazione in vitro. Un'altra dieta o rimedio erboristico folle. Un'altra bizzarra terapia a base di vitamine o minerali. Sono informazioni reali che puoi utilizzare proprio ora. Ti starai chiedendo chi sono e perché sto condividendo questo contenuto delicato con te. Il mio nome è Lisa Olson e sono una specialista di nutrizione certificata, consulente di salute, ricercatrice medica, conduttrice e scrittrice. Sono anche una donna che soffriva di infertilità. Nel corso degli ultimi 14 anni ho aiutato migliaia di donne in 130 paesi a rimanere incinta in modo naturale e dare alla luce bambini sani. E oggi vorrei aiutare te. Proprio così, in sole 4-8 settimane da oggi potresti mandare gli inviti di battesimo ai tuoi amici e familiari. Ci sono buone probabilità che sappia esattamente come ti senti perché ci sono passata io stessa e ho visto i casi di migliaia di mie clienti. Quindi, forse, ti senti molto confusa riguardo al tuo problema di infertilità e non sai come rimediare. Sei arrabbiata e stressata per non essere in grado di concepire nonostante tutti i tuoi sforzi. Sei stufa di tutte le promesse vuote, le false promesse di cura... Grazie. 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 Grazie.